E l'ultimo appuntamento internazionale della stagione coinvolgerà domenica prossima a Lisbona ben 35 azzurri. Tra di loro c'è pure un atleta andriese, Pasquale Selvaruolo, convocato per i campionati europei di cross. Parteciperà alla prova riservata agli under 23, dimensione agonistica della durata triennale in cui il ventenne portacolori dell'atletica Casone a Nocetto Parma e alla prima stagione il livello, inutile nasconderlo, sarà molto alto. Ecco perché Selvaruolo preferisce evitare proclami di alcun genere. Sarà chiamato a Lisbona a confrontarsi con atleti in alcuni casi anche più grandi di due anni. L'obiettivo minimo è centrare un posto nella top 50. Un grande risultato sarebbe invece entrare tra i migliori 30 d'Europa nella categoria under 23. C'è pure un obiettivo di squadra in ogni caso da provare a raggiungere. Selvaruolo, Ioannes Chiappinelli, Jacopo De Marchi, Riccardo Mugnosso, Sebastiano Parolini e Sergei Poli Carpenco ambiscono a far parte delle prime cinque nazioni del vecchio continente in una prova in cui la Francia parte decisamente con i favori del pronostico. La gara per gli under 23 scatterà alle ore 11.55 di domenica e si articolerà sulla distanza degli 8,2 chilometri. Selvaruolo ha già preso parte agli europei di corsa campestre per la precisione lo scorso anno, quando gareggiava ancora tra gli under 20. Quest'anno ha già lasciato due volte una traccia tricolore, vincendo i titoli italiani della categoria promesse sia nella 10 chilometri a Canelli in provincia di Asti e sia sulla distanza della mezza maratona a Palermo. Ora vuole mettere la ciliegina sulla torta al suo eccellente 2019 sui prati del parche da Bella Vista di Lisbona, provando a far bene nella rassegna continentale di Cross.